No, non condivido la sua analisi, nel senso che io non li vedo questi antifascisti che perdono la parola quando si tratta di attaccare Putin. Io sono antifascista, attacco Putin dal primo momento in cui se l'è meritato, cioè ancora prima dell'invasione dell'Ucraina. E no, mi sembra un po' come quando l'anno due anni fa si era inventata la figura del pacifista che voleva arrendersi a Putin per poi smontarlo. Mi sembra che essere antifascisti oggi sia difendere la democrazia, perché il contrario di fascismo non è comunismo ma democrazia. Tutti dobbiamo dirci antifascisti e antifascisti, non si può non essere antifascisti in Italia, una repubblica antifascista. Mi sembra che le antifasciste e gli antifascisti oggi abbiano e come la voce per condannare non solo le dittature, non solo Putin, non solo le situazioni di violazione dei diritti umani in giro per il mondo. Mi sembra che sia una cosa sinceramente che facciamo proprio tutti i giorni, non li vedo questi antifascisti che perdono la parola quando si tratta di attaccare Putin. Quindi lei ad esempio è tra quelli che è favorevole a continuare a dare le armi all'Ucraina per sostenere la resistenza contro Putin? Io penso che a due anni dall'inizio del conflitto si debba guardare in faccia la realtà e si debba affrontarli da vedere. Se fosse bastato l'invio di armi e saremmo festeggiando l'Ucraina in pace evidentemente non è bastato. Quindi per l'Ucraina, per proteggere l'Ucraina, i diritti, la popolazione ucraina, io penso che sia necessario il tavolo del negoziato.